Carlotta ASMR che questa è la tipologia che preferisco in assoluto e soprattutto perché volevo dare un mio stile al video ma tutto quello che dico è realtà quindi vi illustro un po' le potenzialità di questo sito che io stessa attualmente sto utilizzando e che è 100% legale e spero l'utilizzerete, che vi farà piacere e che il video vi interessi, che vi piaccia e soprattutto che vi rilassi buon ascolto ciao buongiorno prego dimmi pure ok vuoi condividere questo abbonamento con qualcuno in particolare perfetto, sei nel posto giusto perché Together Price ti aiuterà proprio in questo dunque hai ben chiaro cosa sia Together Price io ti posso aiutare comunque nella nelle descrizioni al sito eccetera risponderò a tutte le tue domande quindi non hai ben chiaro allora Together Price è un sistema di pagamento di gruppo che ti permette di gestire degli abbonamenti che hai già per esempio non solo a Netflix oppure di entrare a far parte di gruppi, di amici, familiari, coinquilini perché no attraverso appunto il sito ti basterà registrarti, iscriverti se ti interessa e potrai diventare un admin cioè un creatore di un gruppo per condividere un abbonamento che paghi già appunto a Netflix o a Disney Plus a Spotify se per esempio non so vuoi fare vuoi condividere con degli amici con dei familiari un abbonamento a Disney Plus per esempio è perfetto hai già l'abbonamento a Disney Plus beh se vuoi condividerlo con gli amici perché Disney Plus lo permette mi raccomando bisogna sempre accettare e rispettare i termini di utilizzo di queste piattaforme e puoi farlo tranquillamente i tuoi amici i tuoi familiari caricheranno la loro quota e poi andrete a condividere l'abbonamento in questione e quindi puoi permettere a qualcuno della tua famiglia che vuole dividere le spese o a qualcuno dei tuoi amici sempre se la piattaforma lo permetterà e troverai tutto su Together Price potrai permettere loro di inserirti nel loro gruppo e quindi sarai un joiner cioè raggiungerai questo gruppo è un pochino più chiaro? è semplicissimo Together Price ti semplifica il pagamento e la condivisione degli abbonamenti assolutamente c'è anche per esempio Spotify Family perché no? Apple Music trovi tutto dimmi cosa vuoi fare io posso aiutarti ok vediamo hai qualche altra domanda assolutamente l'iscrizione è completamente gratuita ti puoi scrivere direttamente dal sito oppure sempre dal sito ma entrando dal tuo account Google o Facebook comunque andiamoci a scrivere per esempio mi dicevi che è un account Disney e vorresti condividerlo con degli amici facilissimo allora guarda puoi guardare direttamente dallo schermo che è uno schermo condiviso ok allora su registrati avrai bisogno del tuo nome cognome ok data di nascita e poi adesso inventiamoci una password che potrai cambiare subito dopo questo incontro con un simbolo anche perfetto ok siamo dentro benissimo allora come vedi adesso ti dà il benvenuto su Together Price e ti chiedo di scegliere tre servizi per scoprire quanto puoi risparmiare fino al 80% allora spuntiamo Disney Plus ok ok e andiamo giù poi potrai cambiare le preferenze perfetto 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 ti spiega appunto che puoi risparmiare fino a 150 euro l'anno qui tutte le specifiche per Apple Music Nintendo Disney Plus come vedi può risparmiare veramente molto ok allora in pratica Together Price ti consigli addirittura di fare una prova gratuita prima di iscriverti ma insomma se ce l'hai già non serve la prova gratuita però gentilmente ti dicono che c'è questa possibilità e potrai pagare solo 1,75 al mese però saltiamo questo step o a questo punto ti chiede se vuoi raggiungere un gruppo di amici di parenti o se vuoi creare un gruppo e noi lo creiamo il gruppo perché tu hai già l'account come vedi è semplicissimo ti chiede di selezionare un servizio che noi non vogliamo personalizzato non ci interessa e andiamo su Disney Plus eccoci qui allora puoi caricare la tua immagine per questo gruppo insomma poi puoi decidere da te e al termine del periodo di prova vabbè questo non ci interessa appunto andiamo a creare il piano quindi ci interessa Disney Plus mensile dopodiché ma sul prezzo totale se è 99 già lo paghi posti liberi due ok situazione richieste ok vediamo un po' tipo di relazione mi hai detto amici no allora puoi scegliere vedi i punti Disney Plus è l'opzione di scelta dunque amici è automatica perfetto il gruppo facciamo pubblico sì e poi e poi puoi farlo anche privato certo inviare inviare i link hai letto i termini di servizio mi raccomando rispetta sempre le regole pubblichiamo e dovresti controllare la tua mail e confermarla perfetto e adesso dobbiamo associare il tuo numero di telefono ok adesso dovresti aver ricevuto un codice di conferma perfetto siamo a posto con l'iscrizione e con la creazione del tuo gruppo e in qualità di admin vogliamo cercare qualcosa che può interessarti per raggiungere un gruppo e qualche amico ok e beh allora è semplicissimo ti basterà chiedere per esempio Netflix è solamente per il nucleo domestico quindi dei conquilini da famiglia certo assolutamente se vivono con te e puoi chiedere a loro di creare un gruppo se sono gli altri che pagano e tu puoi raggiungerli esattamente nello stesso modo ovviamente lo step da fare in più è quello che prevede il pagamento che è sicuro e semplicissimo ok guarda ti inserisco un'immagine nel profilo così a caso ti piace Harry Potter bene ok e adesso vado a vedere principalmente quindi fondamentalmente si tratta di questo all'interno del sito troverai anche una chat con la quale puoi parlare appunto del pagamento eccetera eccetera sarà molto semplice ottenere i pagamenti perché tu chiedi il price appunto che ti aiuta a gestire il pagamento infatti come vedi ecco qui il tuo profilo per ora sei alla alla base insomma devi fare ancora diverse cose il livello di affidabilità che cosa ti che cosa indica sta ad indicare quanto l'utente sia affidabile il pagamento eccetera eccetera mi raccomando di inserire sempre i dati corretti allora se vai in nei gruppi creati da me troveremo eccolo qui il tuo gruppo di Disney Plus al quale potrai far accedere tutte le persone che ti interessano quindi i tuoi amici i tuoi familiari come vedi la tua mail è verificata il telefono è verificato cliccando su invita i tuoi amici puoi copiare il link oppure condividerlo tramite Facebook Whatsapp o Telegram come vedi è velocissimo veramente molto molto veloce per invece raggiungere un gruppo momentaneamente non è ancora gruppi ti passerà utilizzare il link di qualche amico eccetera eccetera che creerà il gruppo per te e di iscriverti a tale gruppo esattamente quindi il pagamento poi è davvero semplice davvero rapido si paga tramite carta di credito come vedi all'interno del tuo profilo c'è anche il wallet qui hai la possibilità di gestire tutti i tuoi pagamenti esattamente comunque se hai dei dubbi puoi andare tranquillamente su aiuto qui ci sono tutte le risposte a delle eventuali domande per esempio adesso andiamo direttamente al wallet ed ecco qui la risposta il wallet è il portafoglio digitale di Together Price utilizzano per tenere sotto controllo la situazione dei pagamenti ricevuti ed inviati quindi se partecipi come joiner o se hai creato un gruppo come admin ti passerà andare sul wallet per poter utilizzare il tuo credito o per prelevare anche se sarà automatico il pass il da credito i pagamenti che ti sono dovuti torniamo al nostro account e andiamo dalla parte impostazioni abbiamo il tuo profilo informazioni generali interessi la privacy puoi gestire tutto da qui poi eventualmente se hai qualche amico che ha creato un gruppo ma non è il link eccetera lo inserisci qui nella barra e cerchi tutti i gruppi ok guarda segno due o tre punti tra i quali la password eccetera ok era con un punto esclamativo giusto bene bene ecco qui post it molto bene e direi che siamo a posto hai altre domande perfetto allora nel caso ti servisse qualcosa mi trovi ancora qui altrimenti ti ripeto tutte le domande a tutte le domande troverai risposta sul sito altrimenti c'è il nostro servizio clienti è stato un piacere ciao grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.